Easy Go Easy Go Tieni la calma, Adam, e tutto andrà bene Salve signora, scusi il disturbo Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti Potrei farle qualche domanda? Luca! No, non ti lasceremo indietro Giusto, cara, non possiamo Che stai facendo? Non ti abbandono Cara, no Non smuovervi! Non avresti dovuto farlo Non puoi mettere Alice in pericolo Ora andate prima che tornero E tu? Cosa farai? Me la caverò Alice è ciò che conta Non voglio lasciarti, Luther Non temere Vi raggiungerò al confine, ok? Ora andate Abbiate cura di voi Uccidetemi Non ho fatto niente Sì, non ho detto Sono ancora tanti? Guardati, sono come razzi Il cerchio e ci ne trovi Spero di non passare la notte qui Mi sta frangelando le palle Ci sono soldati dappertutto Dobbiamo fare attenzione Avanti, muoversi Forza, dentro Guarda laggiù È Luther Non possiamo aiutarlo Ci sono troppi soldati Non possiamo abbandonarlo Lo uccideranno Ok, andiamo E tu? È un errore Sono un umano Voglio tornare a casa Mia moglie mi aspetta E dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili No No Vi prego Cara Hai rischiato la tua vita per me Dov'è, Alice? Si sta nascondendo Cara, ci hai salvato Te ne siamo molto grati Vai, non farti vedere Alice Luther Pensavo fossi morto No Temevo che non ti avrei più rivisto Volevo incontrarti al terminal Ma mi hanno preso sulla strada Forza Ci siamo quasi Sberghiamoci Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto restare male. Stai bene? Ha freddo. Dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Ci sono devianti in gira. I nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie. Ehi, un momento. Lo sa, cara. Ci ammazzeranno. Non fare niente, Luther. Hai capito? Spareranno. Uccideranno Alice. Ti è caduta. Grazie. Non si muova. Marcos. Grazie. Piace molto a Oliver. Controllo sicurezza. Non si muova. È sua? Sì. Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi. Chiamato tua madre. Grazie. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro. In borsa. Bene. Andiamo allora. Controllo sicurezza. Non si muova. Grazie. Scusa. Non si muova. Non so quanto mi dispiace. Ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa. Li avevo nello zaino. La busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che... Chi ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. No. Mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusa, mio amore. Non so cosa è successo. Li avevo qui, nello... Non si muova. Desideri, prego. Sì, ecco. Ok, procede. Che non sarà di quella famiglia e del loro bambino? Moriranno per colpa nostra? No. Certo che no. Non so cosa è successo. Non so. Non so. Non so. Grazie. Il prossimo. Documenti. Vi prego. Vogliamo solo libertà. Benvenuti in Canada. Grazie.